Bentornati sul canale, anche stasera prima di Natale vi faccio un regalo, stasera parliamo con un altro componente della PFM, abbiamo preso il pacchetto completo settimana scorsa Flavio Premoli, stasera Patrick Zivas, il mitico bassista della PFM. Ciao Patrick! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Come stai Patrick? Come va la vita? Va bene, direi bene, abbastanza bene, siamo in quasi vacanze per un paio di mesi, quindi tutto a posto, a parte un concerto che facciamo adesso tra poco in Sardegna, ma il prossimo concerto poi è a Città del Messico il 15 di febbraio, quindi abbiamo un po' di tempo per provare, per sistemare, per rodare. Patrick, partiamo con una news che ho letto, è uscito il tuo libro, la tua biografia, ci racconti un po' come è nata quest'idea, perché non è un'autobiografia, tu ti sei affidato a un biografo. No, è una cosa strana che è nata in Francia, e non è un libro italiano, è un libro francese, poi c'è quello che è uscito adesso, è la traduzione italiana di questo libro, che è uscito in Francia due anni fa, l'autore si chiama Louis Denis, ed è uno specialista del prog rock, soprattutto del prog italiano, lui ha scritto dei libri sul prog italiano, è estremamente informato, conosce tutti i gruppi, conosce tutte le formazioni, è veramente incredibile, e un giorno lui aveva, sapendo che ero francese, mi ha chiamato un giorno e mi ha chiesto se volevo fare la prefazione di un suo libro. Allora gli ho detto, ma certo, perché no, ma mandamelo. Ah, mi ha mandato il libro, che era molto carino, gli ho fatto una prefazione, e quando l'editore francese che pubblica i suoi libri ha letto una prefazione, gli ha chiesto, ha detto, ma chi è questo Patrick Gilles? Ed dice, no, niente, è un musicista francese che vive in Italia da tanto tempo, che è il bassista di un gruppo famoso in Italia. Ah, bene, bene, allora, perché non scrivi un libro sulla sua vita? Ed è partito così questa storia. Allora mi ha chiamato e mi ha detto, senti, cosa ne dici se io scrivesse la tua biografia? Allora mi ha detto, ah, perché no? In Francia, poi mi fa molto piacere, perché sai, in Francia non mi conoscono come mi conoscono in Italia, quindi una mia biografia mi avrebbe fatto molto piacere, anche per i miei parenti, che finalmente così capiranno che in realtà faccio un lavoro importante in Italia, cioè non è una cosa. Allora siamo partiti in questo modo, lui mi ha chiamato, abbiamo fatto delle lunghissime chiamate, gli ho raccontato molte cose e lui è tra l'altro una persona che riesce a, è quasi un investigatore privato, perché riesce a scoprire delle cose che io non ricordavo neanche, e lui non so come ha fatto, ma è riuscito veramente a scoprire delle cose molto, molto, molto belle della mia vita e che poi mi sono ricordato dal momento che me le ha dette, ma è lui che me le ha dette, a parte tutte le date, le cose, addirittura ha scoperto delle cose su mio nonno in Tunisia, cioè una cosa veramente incredibile. Quindi è stata una cosa bella, mi è piaciuto molto e poi l'abbiamo trovato, abbiamo fatto fare la traduzione in Italia ed è uscito adesso da pochi mesi, è uscito anche in Italia. Infatti l'ho comprato e devo leggerlo e ti farò poi sapere perché penso che sarà un libro molto molto bello, perché facciamo anche un po' di cronostoria Patrick, tu principalmente prima degli aree, prima della PFM, sei il bassista di Rocky Roberts, parti con Ritmo & Blues tu Patrick, com'è il tuo incontro con la musica? So che in tenera età tu cominci già ad approcciarti, perché io ti conobbi anni fa, perché tu venisti con la PFM a fare un concerto a Rodengo Sayano, la città in cui io sono cresciuto, in Franciaporta, e sei stato molto gentile perché io ai tempi avevo 15 anni e con la mia band facevamo principalmente vostre cover, quindi per noi eravate dei dei e mi avevi un po' raccontato che il tuo primo strumento non fu il basso, il basso venne dopo. Ci racconti un po' com'è stato questo incontro con il tuo strumento. È vero, dunque se si può chiamare uno strumento, la prima volta che ho toccato qualche cosa che faceva musica era un flautino, un flauto dolce, a sei buchi proprio quello elementare, per caso in una colonia di vacanza dove ero così, mi è capitato questo flautino perché c'era la maestra, la nostra maestra ha fatto un concorso così con i flautini perché un sacco di ragazzi l'avevano e io lo riuscivo a suonarlo tranquillamente quel flautino, non avevo nessun problema, lo suonavo e improvvisavo anche, facevo anche delle cose mie sopra, eccetera. Allora lei ha sentito questa cosa e ha detto a mia mamma, ho vinto il concorso chiaramente e poi lei ha detto a mia mamma che questo ragazzo deve studiare flauto perché è molto portato ed è un orecchio musicale sviluppato. Allora sono andato al conservatorio, ho fatto sei mesi di flauto e poi ho smesso perché mia mamma ha cambiato casa e siamo andati ad abitare lontanissimi dal conservatorio e ho smesso lì. Questo era stato il mio primo approccio con la musica. Poi dopo tanti anni, avevo 14-15 anni probabilmente, il prete, io sono ortodosso di religione perché sono mezzo greco, ho vissuto la mia infanzia molto in un ambiente molto greco e quindi sono ortodosso e il prete della chiesa ortodosso a Nizza dove abitavo, sul sud della Francia, per Natale mi ha regalato una chitarra un giorno, la chitarra acustica. E io ho cominciato a suonare questa chitarra acustica e in quel periodo poi sono successe un po' di tutto, sono usciti i Beatles, sono usciti, anzi addirittura prima dei Beatles, no, cosa dico, prima dei Beatles è uscito i beats e la musica strumentale che andava fortissimo all'epoca, con un gruppo che si chiamava i Shadows, che facevano, che erano fagliottissimi, Apache, esatto. E io, niente, mi sono buttato un po' in questa cosa qua perché all'epoca tutti suonavano, tutti i ragazzi avevano, cioè c'è stata una follia nell'approccio con la musica, soprattutto il beats, no? E nella mia classe, ricordo che eravamo forse in 30 lievi, ma 28 suonavano, quasi tutti la chitarra chiaramente, qualcuno della batteria, il basso era uno strumento che non si sapeva bene che cos'era all'epoca, quindi così. E niente, io ho suonato la chitarra per un po' di tempo, poi ho fatto un gruppo, con questo gruppo sono venuto in Italia per la prima volta, attraverso il manager di Rocky Rovers, che abitava a Cannes, quindi vicino a Nizza, e ci ha sentito e ci ha fatto suonare in Italia. L'impresario. L'impresario, sì. No, lui era il manager proprio e si occupava anche di tutti i concerti, le cose con i vari impresari italiani. E ci ha fatto venire in Italia, abbiamo suonato in Italia, le cose sono andate bene, siamo rimasti lì per un po' di tempo, però in quel gruppo c'erano quattro persone che avevano famiglia, non potevano stare fuori Nizza, fuori dalla Francia, insomma così, quindi sono tornati indietro e abbiamo preso altri musicisti. Tra questi musicisti c'era un ragazzo che si chiamava Roby Macintosh, che era un batterista formidabile, e ti dico si chiamava perché purtroppo è morto ed è diventato, dopo aver suonato con noi, neanche tanto tempo dopo, qualche anno dopo, è diventato il batterista di Average White Band. E ha fatto un successo mondiale così ed è morto purtroppo in un incidente di dog, insomma. Il bassista che suonava con lui, che era scozzese pure lui, una volta, quando eravamo a Torino e dovevamo andare in Germania a suonare nelle basi americane, il bassista ha preso un'epatite, ha preso un'epatite, ha fatto tutto il viaggio, noi abbiamo fatto un viaggio in un Ford Transit come si faceva all'epoca con tutti i strumenti e noi eravamo sei o sette, sei musicisti mi sembra, e quando siamo arrivati lì lui era veramente a pezzi, ha preso un aereo senza dire niente a nessuno ed è tornato in Scozia per farsi curare. A questo punto io, qualcuno doveva suonare il basso, insomma, si può suonare senza chitarra ma non senza basso. Eravamo un gruppo di rhythm and blues, avevamo una cantante formidabile, una ragazzina che cantava tutti i pezzi di Etta James, di Arita Franklin, e robe lì, e avevamo i fiati, tre fiati, quattro fiati, tre e più, o uno che si aggiungeva che suonava anche il piano, o il baritono o il piano. E niente, abbiamo suonato quindi molti brani senza nient'altro che basso e batteria e fiati, perché in molti brani lui non suonava il piano, suonava il baritono, è rimasto così, io suonavo il basso, ma la cosa fantastica è che come ho preso il basso in mano, la sera che abbiamo deciso, perché dovevamo suonare l'indomani, non abbiamo trovato un bassista, era molto difficile, insomma, e quindi ho preso il basso e ho detto, sentite, ci provo io, suono io il basso e vediamo cosa succede. E io come ho preso il basso in mano mi sono detto, ma questo devo suonare io, perché suonano la chitarra? Mi sono trovato subito in sintonia con lo strumento, ma veramente è stato un amore immediato, cioè è una cosa incredibile. E l'indomani abbiamo fatto il concerto in quel modo lì, il concerto è andato benissimo, abbiamo fatto un periodo lì, abbiamo suonato parecchio, abbiamo fatto un bel po' di basi americane, e niente, quando il bassista è tornato indietro, la dura legge del rock and roll ha fatto sì che lui è stato estromesso dal gruppo e io sono rimasto al basso. E' così che mi sono ritrovato bassista. E tu pensi che giro perché si passa da vari strumenti per arrivare a, oppure parti già con uno strumento sapendo che io prendo me stesso batterista, io fin da piccolo ho cominciato con lo studio per poi studiare con Golino ed è sempre stato il mio strumento, però la cosa bella è di tanti strumentisti come te famosi che hanno fatto un giro per arrivare a, quindi tu prendi il basso e penso che siamo già negli anni 70, conosci quelli? No, 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 conoscivo prima. 64 forse? Ah, 67, 66, 67. Ok, ma dopo tu posso... 68. Ok, ma questa esperienza com'è che conosci invece, per fare un po' di cronostoria prima della premiata, di Aria, com'è che conosci Demetrio Capiozzo? Vi conoscete? Questa è una storia lunga perché subito dopo quell'esperienza con quel gruppo francese con il quale sono passato al basso, ho suonato con Rocky Roberts per un anno e mezzo, per un anno più o meno, perché il suo gruppo erano gli Herdales e l'impresario ha fatto sì che di un artista se ne facesse due perché Wes ha incominciato a cantare, Wes era il bassista di Rocky Roberts, ha cantato per i fatti suoi con Dorie Ghezzi e Rocky aveva bisogno di un gruppo, ha preso questo gruppo americano di neri, tutti neri, e il bassista era militare e allora l'impresario, il gruppo con cui stavo si stava sfasciando perché così volevano tornare in Francia e via dicendo, e quindi lui mi ha chiesto se volevo suonare con Rocky in un paio di mesi, un mese e mezzo, intanto che il bassista finisse militare. Ho detto sì sì va bene, ho suonato con loro e mi sono trovato benissimo anche loro e il bassista quando ha finito il militare gli hanno detto no no non c'è bisogno che tu torni che noi abbiamo già il nostro bassista, the French Nigger mi chiamavano e quindi ero diventato più negro di loro. E niente è stata una cosa bellissima per me perché il rhythm and blues è l'anima del basso proprio, è la cosa che ti fa imparare tutti i giri di un certo tipo e soprattutto il groove in un certo modo. Allora dopo questa esperienza ho suonato con Lucio Dalla, ho suonato con Lucio Dalla per un po' di tempo perché io avevo deciso di suonare jazz, volevo suonare jazz e quindi volevo studiare e avevo deciso di smettere di cantare e di suonare in giro insomma di fermarmi e studiare seriamente per suonare del jazz seriamente bisogna studiare veramente tanto. Certo. E quindi avevo deciso di fare questo ma questo il destino ha fatto sì che ho fatto un giorno un turno a Roma con Rosalino che è Ron adesso all'epoca si chiama Rosalino e ho fatto un turno con lui, ho suonato il basso, mi avevano chiamato la RCA per suonare il basso ed era il gigante e la bambina tra l'altro che è un pezzo che è diventato un pezzo famoso e in quell'occasione ho conosciuto Dalla che mi ha chiesto se volevo suonare con lui perché aveva dei problemi con il suo bassista insomma. Io al momento ho rifiutato poi lui mi ha detto sai noi andiamo in America adesso facciamo 15 giorni a New York nel giro italo-americano quando torniamo magari ci risentiamo tu ci pensi nel frattempo poi vediamo. Gli ho detto cosa dove andate a New York o che no ci ho già pensato vengo. Sono andato e beh figurati per me New York voleva dire la mecca del jazz, voleva dire andare al Village Gate, al Village Vanguard, in tutti i locali dove suonava John Coltrane dove suonava tutti i miei eroi. Ron Carter. Sì Ron Carter insomma tutti i grandi del jazz hanno suonato lì e sono passato 10 giorni, 15 giorni a parte quando suonavamo se no ero sempre lì la sera e sono state giornate bellissime. Quando siamo tornati però all'interno del gruppo di Lucio eravamo un trio c'era un batterista che tra l'altro è quello che c'è tutt'ora negli stadio. Pezzoli. Esatto. Pezzola. Sì sì Giovanni e c'era Leandro Gaetano che suonava il piano e io suonavo la batteria in basso. Con Leandro avevamo un'ottima intesa e soprattutto eravamo in sintonia sulla musica che stava uscendo in quel momento che era il rock jazz, era uscito Tony Williams, Lifetime. Lifetime, Davis, Beaches for You. Sì fantastico, era uscito appunto, era uscito Miles Davis e incominciava a venire fuori questo stile, questo genere che a noi piaceva molto perché potevi suonarlo senza avere tutta la conoscenza che ci voleva per il vero jazz, no? Si poteva suonare in un modo più semplice però si poteva avere lo stesso approccio con la musica e quindi per noi era molto molto bella questa cosa e un giorno Leandro mi ha detto senti andiamo a sentire questo mio amico che suona a Torino stasera in un locale con un cantante che si chiama Demetrio Stratos che è un cantante di Ribelli che è uscito dai Ribelli cioè i Ribelli non ce l'hanno più quindi lui era da solo e faceva le sue serate, no? E aveva un gruppo e mi ha detto dentro a questo gruppo c'è un battinista fortissimo con chi io ho già suonato che era lui giù del Capiozzo, dai andiamo a sentirlo, io ho detto va bene, certo, andiamo allora siamo andati a Torino quella sera lì, ho incontrato Capiozzo per la prima volta abbiamo fatto una jam session ed è stata veramente molto molto bella, una jam session fantastica abbiamo deciso di suonare insieme e dopo questo Adal se potevamo cambiare batterista se potevamo prendere Giulio, no? Così noi potevamo stare insieme, suonare insieme sempre e farci il nostro trio così. Adal in un primo momento ha accettato, poi ci ha ripensato insomma alla fine è successo che abbiamo fatto il contrario Giulio Capiozzo ha fatto mandare via il bassista che suonava con Demetrio e io sono andato a suonare con lui, con Demetrio e mi sono portato dietro a Leandro e abbiamo chiesto, Giulio e io, abbiamo chiesto a Demetrio se potevamo suonare se potevamo dividere in tre la paga di due e far suonare Leandro con noi perché Demetrio non voleva il tastierista, suonava lui l'organo lui ha detto sì sì non c'è problema, fate pure, tanto a me non mi costa niente anzi mi sono contento di avere un musicista in più e abbiamo fatto così, tutti i pomeriggi facevamo i periodi nei locali i pomeriggi andavamo a suonare per i fatti nostri in trio e facevamo delle cose veramente interessanti per l'epoca molto molto stile, era molto tipo Lifetime di Tony Williams anche prima in Weather Report? no no, Weather Report all'epoca non erano ancora sì stavano cominciando però non era, a noi per certo Tony Williams Lifetime me caspita era il massimo, a me è tuttora il massimo comunque abbiamo fatto questo e un giorno Demetrio ci ha detto perché dovevamo fare le prove per una gara di rock and roll che dovevamo fare una roba così è venuto alle prove, ci è venuto il pomeriggio anche lui e abbiamo fatto delle prove con lui per appunto cose che dovevamo suonare quella sera lì e poi lui ha detto cosa fate voi adesso ma noi proviamo come facciamo tutti i giorni facciamo le nostre cose in trio ah dai quasi sto qua, mi ascolto così dopo andiamo a mangiarci una piste insieme inutile che torni a casa per tornare qua eccetera abbiamo detto va bene, ha fatto così, ci ha ascoltato non ha detto una parola, siamo andati a mangiare una pizza ci siamo seduti, abbiamo mangiato una pizza finita la pizza ci ha detto ragazzi posso entrare nel vostro gruppo ed è stata una cosa veramente incredibile perché e così abbiamo il primo nucleo degli area è quello Leandro, Capiozzo, Demetrio e io e abbiamo incominciato a sognare abbiamo incominciato a fare delle cose veramente fuori da qualsiasi schema qualsiasi logica del momento e niente e così sono andati di area dopodiché abbiamo fatto il primo disco il primo disco prima che uscisse il primo disco io mi sono ritirato dagli area per tutta una serie di ragioni che adesso è un po' lunghe da raccontare e niente e così è stato però ti devo dire che la mia permanenza la mia esperienza con gli area avere creato questo gruppo assieme a questi tre fantastici musicisti è stata una delle cose più emozionanti della mia vita anche perché all'epoca veramente eravamo credo che eravamo un gruppo gli unici gli unici che fateva tutto il genere unici e credo unici ma proprio a livello mondiale eravamo unici ma non solo noi eravamo anche innovatori perché tipi dispari sì la contaminazione non esisteva all'epoca no nessuno faceva contaminazione noi siamo stati il primo gruppo a fare contaminazione perché perché eravamo tutti di nazionalità diverse c'era un francese mezzo greco un greco puro che era Demetrio c'era Romagnolo Edi Busnello che era mezzo belga un po' italiano però aveva lo spirito belga aveva sempre vissuto in belgio parlava il francese perfettamente infatti noi due parlavamo sempre in francese c'era questo il primo chitarrista Gioni Lambizzi che era un mostro sì prima di Tofani sì che era veramente una cosa incredibile lui era era mezzo polaco non mi ricordo bene cioè era veramente gente che arrivava da tutte le parti e quindi c'era un enorme rispetto tra noi e quindi ogni volta che qualcuno aveva un'idea la tirava fuori e si faceva ed è così che gli area sono diventati un gruppo di che ha fatto un sacco di contaminazione no ed è diventato un gruppo culto veramente guarda abbiamo fatto qualche concerti poi all'inizio con i Weather Report con i Nucleus Young Car i Nucleus con tutti i gruppi dell'epoca ed erano tutti a bocca aperta quando suonavamo ti posso garantire soprattutto quando suonava io devo dire che guarda ti faccio un esempio abbiamo suonato abbiamo suonato abbiamo fatto anche dei concerti con i Gentle Giants con i Nucleus con i Nucleus bravissimi certo allora qualche anno fa non tanti anni fa 4-5 anni fa eravamo eravamo con la PFR a New York abbiamo suonato al Blue Notes che è un locale molto famoso di New York abbiamo suonato lì ed è venuto uno dei Gentle Giants a sentirci la PFR era molto amica dei Gentle Giants ma aveva conosciuti prima che io entrassi nella PFR quindi io non avevo mai avuto a che fare con i Gentle Giants con la PFR avevo solo fatto qualche concerto ma pochi due o tre con l'area suonando insieme la stessa sera allora quella sera lì erano tutti che chiacchieravano che bello come stai come non stai suonate sempre bene e voi cosa fate ed erano un po' più amici si sentiva che c'era un bel feeling tra la PFR e questo tipo e poi a un certo momento ha parlato con me che ero lì anch'io mi fa eh sì all'epoca suonavamo veramente bene e voi non ne parliamo a me e io gli dico guarda che io non ero con la PFM all'epoca non ero il bassista della PFM io suonavo con un altro gruppo e lui mi ha detto so benissimo che tu suonavo con gli area e di quelli stavo parlando io tu pensa che lui non solo si ricordava perfettamente degli area con chi avevamo fatto due concerti forse con loro ma aveva mi aveva riconosciuto all'interno sapeva il mio nome vuol dire che aveva visto studiato visto sì aveva e ha incominciato a parlarmi del concerto degli area che avevamo fatto con loro e mi diceva che la prima sera che ci hanno sentito sono rimasti tutta la sera a parlare di noi tra loro quindi tutte queste cose sono cose molto belle che mi hanno fatto sempre molto piacere perché le area sono sempre nel mio cuore è sempre un mio bambino anche se la strada così per la quale io non ero molto d'accordo su quella strada lì di fatto è per quello che ho lasciato il gruppo ma sono molto legato a queste situazioni presumo che era uno dei fratelli Schulman e deve essere Derek Schulman perché è quello che vive in America che fa il discografico esatto sì che è quello più prestante ti dico questa cosa perché c'è un video su Youtube un'intervista alla Rai siamo a cavallo del 74 75 dove erano le primissime interviste e ci sono i Gentle Giant forse era per voi giovani e a un certo punto il tasterista Carey Minier dice eh sì c'è soltanto un gruppo qui in Italia che può competere con i gruppi proghi italiani tu eri già nella PFM perché parliamo di Chocolate Kings e dice la PFM e infatti in tempi non sospetti vi nominavano già tantissime band vi hanno sempre ritenuto ritenuto Patrick non degli non dei nemici ma già persone che qui in Italia potevano competere con loro però penso che vi faccia molto piacere perché voi avete avuto l'opportunità di essere in contatto con tantissima gente poi ci arriviamo ecco perché dopo tu entri nella PFM e da lì parte una carriera stratosferica io presumo che le tue scelte siano state anche coadiuvate dal fatto anche di un discorso sicuramente penso finanziario perché di area purtroppo hanno sempre combattuto su questo avendo anche parlato con Fariselli e col figlio di Capiozzo i guadagni purtroppo non erano portentosi io penso che anche tu non so se eri già sposato però un minimo di guadagno ti serviva quindi io penso che per la PFM tu sei stato un membro non importante ma lo sei tuttora quindi dopo tu entri nella premiata perché vi incontrate all'altro mondo di Rimini so la storia che tu eri andato quella sera e dopo tu parti con la premiata e sei tuttora oggi uno dei membri portanti della venda la PFM che è un altro tuo bambino che stai cullando da tanto e che è cresciuto ormai perché è già un bel adulto la PFM è tuttora una parte fondamentale della tua vita tralasciando anche la tua attività da produttore con Gatto Pancieri e tutto cosa ricordi invece del periodo che poi io voglio arrivare a un punto focale quando tu sei a Los Angeles come è stato come hai vissuto tu Patrick il cambio dall'Italia perché tu entri nel 73 l'isola di niente c'è la Manticore ma l'esperienza americana come l'hai vissuta tu Patrick io l'ho vissuta benissimo anche perché io ero la mia la mia compagna in Italia era Marva Mauro certo che era una cantante paroliere paroliere cantante eccetera eccetera e che ha fatto ha scritto dei pezzi per nogia Chocolate King per esempio e altre cose ha scritto tante cose era una una persona estremamente poliedrica estremamente poliedrica e dotata e americana e quindi io l'ho conosciuta in Italia proprio quando sono arrivato nella PFMS il 73 e quindi noi parlavamo sempre in inglese tra di noi io arrivavo anche dall'esperienza di Rocky Rovers che non era neanche tanto tempo prima quindi parlavo bene inglese avevo un approccio molto americano prima un approccio molto nero americano poi americano del tutto lì con con Marla quindi per me è stato assolutamente non è stato traumatico per niente anzi io ero già stato a New York avevo già avuto un'idea di chiaramente suonare lì con nel giro italiano americano un discorso suonare nel giro americano col tuo gruppo via dicendo è tutta un'altra storia e quindi è stata una cosa meravigliosa bellissima io non ci credevo fino all'ultimo e poi alla fine la cosa è successa e devo dirti che per noi era quasi normale poi è strano l'esperienza della PFM perché con tutto quello attraverso quali siamo passati dall'Inghilterra dal Giappone le cose insomma in tutto il mondo come ho suonato tutte le soddisfazioni enormi che abbiamo avuto non abbiamo mai per noi era tutto normale ma non perché eravamo montati e ci credevamo chissà che perché era così non so come dirti era noi eravamo musicisti esatto eravamo musicisti nell'anima non eravamo non ci sentivamo artisti non ci sentivamo un gruppo non so come dirti non eravamo artisti eravamo musicisti e quindi per noi la cosa importante era suonare bene la sera fare le cose che volevamo suonare tanto improvvisare divertirci e questo lo potevamo fare in America era bellissimo perché lo spirito americano è proprio quello loro hanno l'improvvisazione dell'anima perché per via della musica che è nata lì il blues il rhythm and blues il jazz e via dicendoci questa è la musica americana di base è un po' come la nostra musica classica la nostra musica classica qua è così in America invece la musica classica è il jazz e tutti quindi l'improvvisazione era fondamentale per loro e noi eravamo un gruppo prog si fa per dire perché secondo me solo i primi due dischi della PFM sono prog poi gli altri sono molto diversi contaminati certo quindi sono musica totale un po' quindi eravamo però un gruppo strutturato con dei pezzi anche prog e via dicendo però improvvisavamo e questo per gli americani era una cosa fantastica perché i gruppi prog non improvvisano no è tutto schermato si fanno dei soli magari così però le improvvisazioni totale che facciamo noi che facciamo tuttora che sono non è solo il solo di uno di noi ma in un'utilizzazione totale di tutta la band nessuno rifaceva dell'ambiente prog e quindi per gli americani noi eravamo una bestia rara e in più devo dirti che anche i gruppi sai in america c'è molta tra i gruppi tra gli artisti musicisti anche c'è molta competizione tantissima un po' in tutto il mondo è così ma lì si sente veramente forte questa cosa ma noi non eravamo un pericolo per loro no eravamo un pericolo sono stato molto amico di Giacomo Pastorius ecco appunto dopo voglio arrivare Giacomo Pastorius che era un bassista che tutti noi conosciamo lui aveva un bruttissimo rapporto con i bassisti americani con me no perché io non ero americano io ero italiano non ero un nemico non ero un nemico non ero uno con chi competere perché io ero di passaggio comunque non ero uno che rischiava di 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 inficiare la sua fatto che con lui non c'era poco da inficiare però no no per dire era così quindi noi non eravamo i gruppi americani ci amavano tutti gli artisti con chi suonavamo ci amavano cioè perché eravamo e poi non eravamo montati che non ci drogavamo non eravamo sinceri eravate sinceri eravamo particolari eravamo veramente strani le nostre feste la sera non erano a base di cocaina di robe così ma era a base di vino spaghetti e che ci facevamo in albergo facevamo le scenette ci divertivamo ci divertivamo e i gruppi con chi suonavamo venivano sempre alle nostre feste dopo un po' non facevano più le loro scoribande di droga ma venivano nella nostra camera nella nostra camera a divertirci a cantare nella vecchia fattoria ed era veramente molto molto carina questa cosa quindi c'era sempre un buonissimo rapporto tra noi e tutti quelli che abbiamo conosciuto tutti i gruppi e anche i musicisti sonisti che abbiamo conosciuto e sono veramente tanti ma appunto Patrick per chi ci ascolta proprio il discorso delle jam session quindi dell'improvvisazione consiglio a tutti l'ascolto del cofanetto 10 anni live dove veramente c'è il volume 3 che è l'esperienza americana dove fate dei brani l'improvvisazione a un certo punto c'è di cioccio che dice al pubblico noi adesso vogliamo fare un esperimento e create sul palco sul palco proprio un brano lasciano stare Posidon che era il brano conclusivo ma tipo c'è pascolo siderale gem c'è violino gem cioè era molto fantasioso e infatti siete stati gli unici salvo quell'esperienza che invece vi hanno rubato gli strumenti che è stata pazzesca quella lì a Los Angeles alla Roxy due volte ci hanno rubato gli strumenti ci hanno rubato gli strumenti lì ma non erano un cameriere tra parentesi anche ma questo guarda a me mi hanno rubato due o tre bassi tre bassi mi sembra avevo un Rickenbacker che non usavo però era molto strano era bello da vedere poi era il basso dei Beatles sì figo che sguaglia degli ES esatto quindi mi piaceva l'idea ne avevo comprato uno avevo anche un Fender senza tasti sì perché ti aveva fatto Fender esatto no no era proprio un Fender che era stato fatto dalla CBS che non era un vecchio Fender era un Fender nuovo però senza tasti così l'avevo preso non lo suonavo dal vivo però l'avevo preso suonavo un basso senza tasti però con i tasti rimati quelli che avevo io in partenza e un altro basso che adesso non ricordo è il basso che suonavo che suonavo la sera con la PFM forse era Gibson no 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 adesso non ricordo sinceramente comunque anche a Franco gli avevano rubato due o tre chitarre insomma è stato un bel danno quella sera lì gli strumenti erano particolari erano molto belli la chitarra quindi la Franco aveva una chitarra che era fantastica una 335 Gibson aveva trovato a New York in un negozio che assieme a tutte le altre che c'erano lì le avevano provate tutte e questa qua era una cosa fenomenale aveva un suono perché era stato trafficato non so cosa avevano fatto con i pick up avevano fatto avevano fatto un errore con i pick up di collegamento ed era venuto fuori una roba fantastica vabbè comunque li avevano rubata e invece non mi ricordo più prima di questo o poco prima o poco dopo ci hanno rubato tutti il camion in Italia con tutti gli strumenti tutti 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 i nostri strumenti e questo è stato pesantino insomma caspita tutta la strumentazione però siete sempre riusciti a trovare soluzioni non vi siete mai persi d'animo e infatti io amo un album scuserete se mi ripeto e anche già con Premoli lo dissi Jetlag è il mio preferito Patrick penso che sia l'album che mi ha formato di più batteristicamente io penso di aver perso le ore a studiare e a trascrivere le parti di Franza è un album che è bellissimo per me lì voi avete fatto proprio total cioè totale l'esperienza americana avete preso ma tu eri con l'esperienza con Pastor il famoso numero uno sul manico e tu sul due che dopo non so se l'hai cancellato però era anche simpatico questo perché voleva dire che era simpatico Jetlag per me è veramente se uno non sa che la PFM pensa che siano i Return to Forever di Cicoria Jetlag penso che tu hai dato tantissimo left-handed theory sì era un po' la mia è stato il mio bambino più vicino che la PFM perché comunque io arrivo anche la PFM aveva questa caratteristica di avere musicisti un po' come l'Iarea in tutto un altro modo però di musicisti che avevano non origini geografiche ma origini musicali molto diverse c'era quello che Franz per esempio è uno che è molto nel rock molto nel suona anche uno strumento che porta queste cose Flavio era vabbè suonava la Fisa Armonica classico bravissimo esatto faceva era un musicista totale anche lui Pagani classico Pagani che così arrivava anche lui Pagani era molto blues come suonava suonava benissimo l'armonica l'armonica a bocca Pagani suonava da Dio l'armonica a bocca proprio con esattamente come suonano i bluesmen Franco che arrivava dalla classica io ero arrivavo dal jazz e quindi il mio contributo in jet lag ma un po' perché era è dovuto è dovuto un po' alle esperienze che avevamo in quel momento lì noi in quel momento lì ascoltavamo sempre la sera quando eravamo negli alberghi così ascoltavamo sempre il disco di Roxanne Elsweyr ah di Zappa di Zappa no? certo Roxanne Elsweyr che è un disco formidabile bellissimo è un doppio lo ascoltavamo quasi tutte le sere perché ci piaceva tantissimo poi abbiamo conosciuto Zappa sì è vero a Los Angeles abbiamo conosciuto molto molto bene anche specialmente io l'ho conosciuto veramente molto bene e quindi si è creato questo rapporto anche con la musica poi Giaco in mezzo poi insomma tutta la musica che poi tutti quelli che giravano nel nostro albergo che era il Sunset Marquis a Los Angeles un albergo dove che era specializzato un po' la clientela di quell'albergo era quella di molti musicisti però di un certo tipo fu generale però che pari erano i più jazzisti o jazz Stanley Clark quella era la valente sì esatto c'era Arto Moreira quando eravamo lì c'era Arto c'eravamo noi c'era McLaughlin quelli personaggi lì esatto vari musicisti quindi eravamo eravamo dentro a quell'ambiente lì e quindi quando abbiamo cominciato a lavorare sul nuovo disco e sono partiti un paio di brani così di un certo tipo ci piacevano e abbiamo incominciato ed è venuto fuori jet lag beh ma è una roba pazzesca jet lag sì che è stato registrato in America l'abbiamo provato anche a Los Angeles in una villa che abbiamo affittato e niente tra l'altro io ho avuto un incidente a un dito mi sono tagliato di brutto un dito il primo giorno quando siamo andati il primo giorno siamo arrivati alla villa e la villa era chiusa e dovevamo entrare doveva arrivare il padrone ma io avevo la smagna di entrare ho cercato attraverso una finestra di entrare si è tagliato col vetro ma di brutto fino all'osso mi sono tagliato siamo andati all'ospedale mi hanno ricucito così gli ho detto ragazzi gli ho detto io devo fare devo registrare un disco tra tre settimane e loro mi hanno detto non sarà facile però insomma proviamo e mi hanno fatto una benda che era enorme aveva un dito che sembrava una melanzana perché me l'avevano fatto così non lo muovevo non potevo muovere speccato e così niente ho fatto io ho fatto il disco con molte difficoltà devo dire e anzi qualche brano ho dovuto rifarli poi a Londra allo Scorpio esatto perché non riuscivo a suonarli lì perché questo dito poi suonavo il basso senza tasti all'epoca e quindi era un po' complicato però alla fine dei conti è venuto bene perché poi i pensi che non erano venuti come dovevano venire li ho rifati a Londra e quindi non ci sono stati problemi però in jet lag sì devo dire scusa Patrick sì dimmi dimmi no no che scusa se ti ho interrotto scusa c'è una infatti c'è un'influenza una reminiscenza in left-handed theory che sembra un brano degli aria l'entro col giro parlava e lì mi sembrava che era quasi un tributo da parte tua per gli aria forse o azzardo sì è un classico un classico brano area questo sarebbe come che storia in là storia in là si sente che c'è la storia in là bellissima ma sono tutti molto belli left-handed theory è molto molto bello ma anche jet lag il pezzo jet lag è tutto è tutto misurato è molto bello quel disco io penso che sia un migliore spandamente comunque è un disco che non è stato capito forse perché ci si aspettava altro della PFM e pensa che in America ci avevano detto un po' prima di fare jet lag ci avevano detto vedrete l'anno prossimo voi diventerete uno dei gruppi più grossi perché tutti parlano di voi perché siete fortissimi perché lì perché dal vivo adesso adesso fate il nuovo disco e vedrete che l'anno prossimo sarà fantastico ok e noi abbiamo fatto un disco di scusa aspetta niente figurati e noi abbiamo fatto un disco di roll jazz quindi questa cosa qua ci ha dato una martellata tra le gambe e non siamo diventati il gruppo che loro immaginavano che saremmo diventati però chi se ne frega ci siamo divertiti abbiamo suonato la musica che volevamo suonare e soprattutto a distanza di 45 anni o 48 anni siamo qua cosa che se avessimo fatto musica solo per vendere i dischi probabilmente non saremmo qua da tanti anni però penso io quando parlo sempre con i miei amici di cui c'è un mio amico se avrai visto il canale uno dei miei migliori amici che è un conoscitore di musica quando ci troviamo infatti diciamo sempre l'unico gruppo e non voglio dire prog però l'unico gruppo per me di rock italiano che è prog e che ha mischiato tantissimo classica e tutto e che ha collaborato anche con le andre siete soltanto voi cioè non è tanto per dire perché io non è non ci non sono qui per vendere una cosa però io penso che veramente musicisti del vostro calibro che hanno fatto tutte queste cose poi i poliedrici perché voi mi rientrate in Italia nel 78 fate passepartout che è un album non debole però più semplice più easy il bello che poi anche nel 79 fate con De André e parallelamente che non tutti si andano che infatti io quando dico ma sai che è la ritmica della PFM Fortis Cattaneo non lo sanno ci siete voi perché nel primo di Fortis ecco anche Paolo Conte un gelato a limon siete voi però non tutti noi siamo Franco e io che sogniamo dentro e tutti il disco abbiamo fatto tutto il primo disco di Fortis la sede di Volare il primo disco di Fortis è tutta la PFM e anche Super Ivan di Cattaneo anche anche la produzione di Colombo ecco sì sì esatto era la PFM anche quello e che altro ma ce ne sono stati altri anche ma sì ma giustamente un po' di turnismo anche per all'ottondale perché gli anni stavano cambiando noi lo facevamo perché di solito erano artisti di Claudio Fabbi ah che era il vostro produttore certo Paolo Conte era un artista di Claudio Fabbi ah ok è lui che mi ha chiesto se volevo suonare di basso dentro perché gli sembrava una cosa giusta così e anche Franco anche suonate la chitarra Fortis era anche quello era un artista suo certo quindi anche Fortis è stato fatto per quello quindi era più più che altro era così e poi a noi piaceva suonare a noi piaceva suonare cose anche che non c'entravano in niente cioè questa è la forza della PFM perché la PFM passa da Cosi Prog a Chocolate Kings a Jetlag poi a PFM in Classic e poi a De André e poi a come ti va in Riva la Città come ti va Rock ecco tutte cose completamente diverse l'una dall'altra ma completamente totalmente diverse e questa è la forza della PFM è sempre stata con la capacità di suonare qualsiasi cosa e di non mai dire di no mancati quando abbiamo fatto il PFM in Classic è stata una questa è stata una sfida questa è stata una sfida molto importante perché non era facile facile fare una cosa di questo genere non è tuttora e credo che nessun'altra al mondo abbiamo mai fatto una una così una una collaborazione tra non collaborazione un'unione tra la musica classica e la musica moderna in quel modo lì nessuno no nessuno è una follia questa cosa qua tutti i musicisti americani anche se quel disco lì anche quello è un disco che non è stato molto capito purtroppo ma tutti i musicisti americani come ci vedono anche adesso tutti ci parlano di PFM in Classic adesso ultimamente abbiamo abbiamo incontrato che si chiama quello di Portk Pantri Stephen Wilson esatto grandissimo che è che ha preso PFM in Classic perché vuole ascoltarlo per vedere se se si può rimixare se lo fa guarda Patrick se vi prendi ecco una cosa anche aspetta faccio una postilla poi vi siete anche misurati con il musical Dracula avete fatto anche questi stati di immaginazione cioè tantissime robe tornando su anche quello completamente diverso da tutti i giorni sì non c'entra niente non c'entra niente c'è non c'è scusami mio francese un po' scarso perché io sono più sull'inglese trade union non c'è cioè voi passate e sarebbe bello se Stephen Wilson e magari che tu lo conosci proporre di rimixare tutto il vostro catalogo cosa ha fatto già dalla questo non sarà facile però è venuto con noi venuti in Italia ci siamo incontrati abbiamo chiacchierato un po' e lui a un certo momento mi ha detto qual è il disco che ti piace di più che hai fatto della PFM e io gli ho detto ma guarda sono tanti i dischi a me piacciono un po' tutti ma quello che riascolto sempre ogni volta che l'ho riascolto dico ma come cavolo abbiamo fatto a fare questa roba qua è PFM in classic allora gli ho spiegato un po' lo spirito del disco e mi ha detto si è girato verso quello della Sony che è la casa discografica la nostra e la sua che è assieme a noi e gli ha detto per favore mi fammi avere questo disco perché voglio perché noi ci siamo incontrati perché lui ha chiesto di incontrarci perché voleva rimixare un disco nostro non sapeva quale voleva parlare con noi e così è successo sì ma lui è un po' un infan prodigio del Progressive perché lui è stato l'unico a poter rimixare i King Crimson già con Fripp però già voi avete avuto un buon catalogo rimixato dalla dall'Esoteric perché io ce li ho tutti dall'Esoteric e sono ottime edizioni con dei live anche ci sono live in Nottingham nel 76 prima che si andasse via Mauro però se Wilson mettesse mano su certe cose o saltassero fuori come delle registrazioni tu non c'eri ancora è un live al Bobo Club nel 72 sono dei bootleg molto belli quindi se Wilson ci fosse tanta roba Patrick perché vabbè voi non avete mai avuto delle registrazioni scarse perché già nel 75 registravate alla Ricordi in Milano comunque fonici anche quindi e caspita e invece Patrick per non rubarti tempo eh sì caspita e per non rubarti tempo progetti futuri tuoi continui con le lezioni che io so che tu insegni anche poi tu ti eri anche specializzato con la computer music quindi Cubase e tutto stai proseguendo con questi progetti adesso ho avuto un periodo un periodo della mia vita dove mi sono molto interessato a queste cose mi interessa tuttora di computer però non più non ho più la per molto tempo ho fatto anche tanti articoli su giornali Cubase Magazine tu scrivevi sì esatto su Cubase Magazine su come si chiama l'altro famosissimo adesso mi sfugio Computer Music Computer Music su varie cose strumenti musicali avevo una rubrica su strumenti musicali che era bellissima si chiamava dal basso in alto ed era una rubrica dove facevo chiacchierate con amici miei bassisti sia italiani che internazionali non so c'è stato non so anche Stanley Clark per dire c'è un sacco di tempo anche queste cose qua non le fai più adesso sì sì e no non si fanno più ma questa era una cosa che mi piacerà molto anche beh ho fatto una cosa anche un po' con tantissimi bassisti volevo farmi un libro alla fine di queste cose qua perché secondo me la raccolta una raccolta sì perché era carino non erano delle interviste erano delle chiacchierate tra bassisti conversazioni come questa conversazioni esatto e poi il titolo era bellissimo dal basso in alto dal basso in alto sì e quindi è così io facevo queste cose quando avevo lo studio questo avevo uno studio di registrazione dove ho fatto anche le produzioni ho fatto molta musica per televisione certo sigla del TG5 è tua e di Franza il TG5 sì ma per tante altre sigle di Canale 5 penso che ti dico una chicca che ricordo tu e Franza avevi fatto anni 90 e non ricordo che io sono dell'85 quindi avrò avuto sei anni la colonna sonora della parodia simpatica sull'Odissea mi ricordo su Canale 5 la ricordi? sì oddio questa l'avevo rimossa sì sì hai ragione è stata anche una cosa divertente questa cosa qua bellissima sì sì è vero Patrick si è spento tutto ecco si spegne tutto io ti ringrazio per la disponibilità per la gentilezza e per i ricordi che hai condiviso con tutti noi sei un grande per me come ho detto a Premoli perché siete stati fondamentali nella mia crescita perché il mio primo anzi avevo 16 anni infatti e facevamo cover vostre principalmente noi eravamo piefemiani e per me parlare con te a distanza di 21 anni adesso ne ho 37 e gli anni passano anche per me ti ringrazio ti auguro buon Natale tantissime cose bellissime per la premiata mi auguro che passiate anche da Brescia che vi vengo a sentire e grazie Patrick grazie a voi grazie a tutti un saluto a tutti e poi tanti auguri visto che siamo sotto le feste auguri anche a te Patrick sei stato gentilissimo auguri per il prossimo anno perché tutti questi ultimi due anni sono un po' così stati massacranti per tutti esatto speriamo nel prossimo anno e comunque la musica è sempre è sempre una cosa che ci aiuta ad attraversare andare attraverso qualsiasi problema qualsiasi situazione la musica è sempre una nostra alleata alleata è vero Patrick grazie di cuore grazie a te a presto buonanotte ciao grazie ciao